Buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti a tutte, bentornati per molti a Finalmente Domenica, dopo tanti mesi e per Finalmente Domenica è quasi un nuovo inizio, a partire dalla grafica, avrete visto la grafica nuova che abbiamo adottato, a partire dalle condizioni di accesso che per forza di cose sono cambiate e però anche a partire dallo streaming che inauguriamo questa mattina, che accompagnerà alcuni dei nostri incontri, nel desiderio di lanciare le nostre iniziative, non solo questo, ovviamente le nostre iniziative il più a largo possibile. Non è cambiata una cosa, che è il nostro desiderio di offrire dei momenti di riflessione che speriamo possano essere utili e importanti. Questo incontro ringraziamo in particolare i nostri due ospiti, Pietro del Soldà e Ivan Levrini, per essere qui stamattina. Questo incontro infatti ci permette di riallacciare un filo che si era spezzato alcuni mesi fa. Questo incontro si sarebbe dovuto tenere il 22 marzo scorso e quindi siamo grati a Pietro del Soldà di aver accettato questo posticipo, anche perché il libro che presentiamo stamattina sulle ali degli amici, libro uscito per Marsilio, affronta un argomento che ci sembrava importante, proprio in questa fase, cruciale, argomento importante, cruciale per la vita di ciascuno sempre, ma forse in questo momento difficile ci può dare qualche spunto anche di riflessione in più. Pietro del Soldà è filosofo, autore di Saggi, molti di noi probabilmente lo conoscono come voce e autore di Tutta la città ne parla, il programma di Radio 3 che approfondisce ogni mattina un tema di attualità a partire da suggestioni che vengono proprio dalle telefonate degli ascoltatori alla rassegna stampa del mattino appunto. Programma che ci tengo a dirlo per il quale Pietro del Soldà ha ricevuto un importante riconoscimento, il premio internazionale Flaiano nel 2018. Insieme a lui stamattina ringraziamo anche Ivan Levrini, anche con lui si riannodano dei fili, Ivan Levrini lo conosciamo, filosofo, autore, divulgatore, insegnante di storia e filosofia nei licei e riprendiamo, lunedì 12 ottobre riprenderemo gli incontri di verso sera, partirà proprio Ivan Levrini, gli incontri che avevamo dovuto anche questi interrompere e il ciclo sulla giustizia che completeremo nelle prossime settimane fino quasi alla fine di novembre. Chi volesse potrà ancora, ci sono ancora dei posti disponibili. Grazie, grazie soprattutto a chi ci segue da casa che per qualche motivo, per vari motivi non è riuscito ad essere qui e buona mattina a tutti. Ringrazio naturalmente Liliani Teatri per l'occasione che mi è data di dialogare questa mattina con Pietro del Soldà, autore di questo libro sul tema dell'amicizia, tema in effetti particolarmente rilevante anche più del solito in un momento come questo. Io insegno, insegno in un liceo di Reggio e l'esperienza effettivamente del lockdown ha toccato parecchio uno degli aspetti della vita così rilevanti, così pregni insomma di significato come l'amicizia perché ha costretto tante persone a diradare se non a insomma annullare i rapporti vissuti in presenza, rapporti che non possono probabilmente essere sostituiti da quell'amicizia digitale di cui forse poi parleremo e di cui ci parla del soldà. Il libro mette appunto a tema l'amicizia e lo fa da una prospettiva filosofica, la prospettiva dalla quale viene esaminato il tema dell'amicizia è eminentemente filosofica a partire da Platone. Nella prima parte del libro giganteggia la figura di Socrate che viene presa in esame con un'attenzione molto accurata ma i filosofi sono scelti da Pietro, mi permetto insomma di chiamarlo così perché siamo conosciuti e quindi ci diamo del tu per far luce su cosa sia l'amicizia a prescindere dal contesto nel quale poi l'amicizia si viveva nella polis nell'Atene del quinto secolo e quindi la filosofia in questo caso ha un valore particolare perché sembra appunto far luce su qualcosa che viviamo noi nel nostro presente e in modo da arricchire le nostre vite o meglio la potenzialità direi delle nostre vite. Il libro poi dispiega le ali su tanti altri temi che toccheremo nella mattinata, il rapporto tra l'amicizia e la politica, l'amicizia e la bellezza, un tema trattato con molta accuratezza secondo me, l'amicizia e l'economia, ecco ma sempre mantenendo sullo sfondo gli autori greci che ci consentono di esaminare cosa sia l'amicizia nella nostra epoca. Io partirei proprio da questo, da una cosa che non sapevo, da, diciamo, una cosa che mi era ignota, cioè uno sfogo. Il libro ha in apertura lo sfogo di un manager di successo londinese, se ricordo bene, che su LinkedIn ha pubblicato un video dove dice io non ho amici, io vivo senza amici, sposato, con figli, numerosi rapporti di superficie, ma vive senza amici. Parla di noi, parla della nostra esperienza, vale anche per noi aver piegato la vita in questa direzione, fatico un po' a crederlo. Io appartengo a una generazione che attorno all'amicizia ha avuto, insomma, ha avuto molto dall'amicizia. C'è un frammento che ci giunge da Democrito, bellissimo, non dice Democrito che non vale, non è degno di vivere colui che non ha neppure un solo buon amico e questa prospettiva mi è sempre sembrata cara, eppure sembra che il nostro tempo favorisca rapporti più cordiali che intensi, rapporti che non facciano resistenza, che non facciano attrito nei confronti di quello che il mercato, la professione, la carriera ci chiede. Rapporti sociali che nella nostra epoca sembrano, almeno nel mondo avanzato, nel mondo occidentale, sembrano sempre più comportare rinunce sotto il profilo dell'intensità affettiva. E Pietro scrive un passo, lo leggerei, sembra sempre più difficile avvicinarsi agli altri ed esprimere insieme a loro la ricchezza emotiva e creativa che ci portiamo dentro, cioè c'è una potenzialità di cui siamo portatori, ma in questa fase, forse della storia, dei rapporti sociali, fatichiamo ad esprimerla. E così, la prima domanda, sempre più ricchi e sempre più soli, senza nemmeno patirne da quel che ho capito dell'intervista, perché mi sembra aver capito che lui dica, non ho amici, ma va bene così, no? Adesso arrivo subito alla risposta e ti ringrazio Ivan, lasciami però prima ringraziare Liliana, Capocino, i Teatri Reggio Emilia e tutti voi per essere qui. Questo è l'aggiornamento di un incontro che doveva avvenire il 22 di marzo, era una delle prime presentazioni pubbliche di questo libro che ha avuto la sventura di uscire, se non ricordo male, il 10 marzo, cioè il giorno in cui le librerie in Italia sono state chiuse. E peraltro, un libro che ha come titolo il titolo è Sulle ali degli amici, il sottotitolo era Una filosofia dell'incontro e usciva appunto il giorno dopo un DPCM che ci diceva che era sostanzialmente illegale incontrarsi. Il contesto non poteva essere più sfavorevole. In parte lo è stato, voi sapete che il mondo della cultura e anche il mondo del libro ha pagato tantissimo quello che sta succedendo, lo sta pagando ancora, le librerie sono assai meno frequentate di prima e così anche, pur essendo voi tanti, oggi ci sono altri festival in corso, luoghi di incontro con gli scrittori un po' in tutta Italia, però insomma ben altri sono i numeri e la possibilità di incontro nel nostro paese normalmente. Devo dire però che poi nel tempo il messaggio contenuto in questo libro è che tu hai già riassunto in quelle due righe, cioè io ho deciso di scrivere un libro filosofico sull'amicizia a partire da questa convinzione, diciamo così, intuizione che poi è diventata una convinzione, e cioè che il rapporto d'amicizia profondo, quello che consente appunto di tirare fuori tutta l'energia creativa che ciascuno di noi ha dentro è un bene sempre più raro per una serie di fattori sociali, culturali che io nel libro provo ad indagare. E quindi questa era l'esigenza, il libro nasce da questa volontà mia che non nasce oggi, mi accompagna da sempre, prima ancora che io avessi iniziato davvero a studiare da ragazzino, l'idea che l'amicizia dovrebbe avere un ruolo più centrale nella nostra vita, nella condivisione dei momenti. Poi dopo è arrivato il libro, è arrivato il blocco, l'impossibilità di incontrare gli amici, dopo una prima rabbia iniziale, diciamo anche se accadevano cose ben più gravi attorno a me, quindi non è che mi potevo davvero lamentare del destino di un libro, no? Quando le paure erano, e sono ancora in realtà, molto più serie. Tuttavia ho anche capito, e un po' la circolazione, il libro è stato comunque comprato e letto da tante persone, ma ha fatto capire che tutto sommato non era poi il momento più sbagliato, anzi forse è stato addirittura, si è rivelato il momento giusto, perché si inseriva in una fase della nostra vita determinata, certo, dalla paura del contagio, dalla paura della crisi economica gigantesca che la pandemia porta con sé, ma anche da un forte senso di solitudine e di azzeramento in alcuni casi, o di forte riduzione della nostra socialità. Quindi il problema di cui io parlo si è sicuramente aggravato e tendenzialmente continuerà finché non arriva un vaccino ad aggravarsi, la difficoltà di stare insieme e condividere davvero. Ieri qui in piazza, io ho dormito al teatro, a un hotel qui vicino, ho visto in piazza un sacco di ragazzini che facevano festa insieme, senza mascherina, tutti vicini, come sta accadendo in tutte le città italiane e del mondo, è forse inevitabile, discutavamo con Ivan che da insegnante li conosce molto da vicino. Però ecco, a parte questi momenti che sono anche credo pericolosi dal punto di vista sanitario, è indubbio che le cose di prima, il livello di condivisione che riuscivamo a raggiungere prima adesso ci appare come un sogno. Nello stesso tempo, devo anche dire, e poi chiudo questa parentesi dedicata a questa fase storica che stiamo attraversando, è successo a me, ma è successo anche a molte altre persone, immagino anche a voi, che soprattutto nei mesi del lockdown, quando eravamo chiusi in casa e vedevamo un po' tutto incerto, tutto nero, abbiamo anche riscoperto il valore dell'amicizia, i legami che ci mancano, che ci mancavano in quel momento. Si è cominciato, per esempio, a fare delle più lunghe telefonate con gli amici cari, non più un messaggio via WhatsApp, ma magari una vera telefonata di 20 o 40 minuti per sapere come si sta, che cosa si sta attraversando. Quindi io credo che sia stata anche ambivalente dal punto di vista dell'amicizia, la fase che abbiamo attraversato, che speriamo non si riproponga più in quei termini. Negativa, perché ci ha impedito per lungo tempo di frequentarli, e ancora oggi ci impedisce una condivisione piena, positiva perché ci ha forse ricordato il valore centrale di quei legami, quelli che vanno anche oltre, diciamo, la cerchia domestica e familiare. Mi chiedevi di quel signore, ovviamente quella frase che ha avuto grande successo, è stata visionata milioni di volte su internet, di un uomo inglese, in carriera, di gran successo, manager di un'azienda di marketing, sposato con figli, con mille colleghi stupendi, dice lui, che però dimostra un vuoto, lamenta la mancanza di persone con le quali condividere delle cose serie, dice, con le quali parlare delle cose serie, e io credo, e per quello è stato visto e condiviso milioni di volte, un sintomo, un sintomo di una condizione diffusa. Anche chi tra noi vive un'esistenza piena di bei rapporti appaganti, affollata di conoscenti, colleghi, chi più ne ha più ne metta, amanti, insomma, rapporti della più diversa natura, spesso sperimenta, al di là di tutta questa ricca molteplicità di relazioni, un senso profondo di solitudine, perché è difficile trovare le persone e anche trovare il tempo per condividere con queste persone le cose più profonde. Gli amici sono coloro, e questa è la frase, la grande sapienza greca da cui io prendo spunto con Platone e Aristotele, coloro che ci mettono in contatto con noi stessi. Quindi amico non è chiunque mi consenta di passare una bella serata, amico non è quello con cui mi diverto a cena, o passo il weekend, o le vacanze, Certo, è bello farlo con gli amici, ma non basta divertirsi insieme per essere amici, nel senso che io do alla parola dal titolo del libro. Sì, in effetti, quanto prima stavi dicendo, sulle occasioni che ha offerto questo periodo di lockdown, mi faccia venire in mente un altro periodo di crisi, che forse io, alla luce dei miei anni, mi ricordo meglio, che si è rappresentato in occasione del 73, della crisi petrolifera, forse qualcuno si ricorda, era diversa l'opportunità di incontrarsi, però ci fu una reazione, che ricordo benissimo, non si poteva girare per strada con le automobili alla domenica, era stato fatto il blocco, qualcuno si ricorderà, in sala, in quell'occasione però si riempivano le strade di persone che camminavano a piedi, ricordo benissimo che perfino le autostrade venivano invasi da persone in bicicletta, che giravano con il panno, si mettevano per terra e si trascorreva il tempo insieme. La differenza naturalmente è che questa scoperta dell'amicizia in un'occasione di crisi, all'epoca appunto avveniva senza la privazione del contatto fisico, in questa circostanza si è magari proceduto attraverso altro genere di contatti. Ora, un tema che dicevo prima è il rapporto tra l'amicizia e la politica, che può apparire abbastanza sorprendente per certi aspetti. Ora, ovviamente non parliamo di partiti, non parliamo di ideologie, politica in questo senso è un'altra cosa, il rapporto tra la filia e la condizione del politis, del cittadino, a partire proprio da cosa succedeva nell'Atene di Socrate. L'esame che ci propone Pietro parte da due testi di Platone, il Critone e il Fedone. Il Critone è un testo forse poco noto, non saprei, ma è un testo, brevemente insomma per porre poi la domanda, nel quale un allievo amico di Platone gli chiede con tutto il cuore di sottrarsi alla condanna a morte, alla quale è stato ingiustamente mandato da parte della città. E Socrate rifiuta la via di fuga che gli viene offerta e lo fa quasi rimproverando. Per la verità propone un argomento molto bello, la prosopopè delle leggi, cosa direbbero le leggi se io adesso fuggissi dalla città, le leggi che mi hanno permesso di vivere, di crescere nella città. Cioè io sono in qualche modo figlio di questa città, non potrei trasferirmi da un'altra parte ed essere quello che sono. E quindi nel Critone e nel Fedone c'è una interpretazione dell'amicizia. Cioè a un certo punto anche Socrate dice ma insomma bisogna che riflettiate agli allievi che affrontano la sua dipartita in modo così doloroso su cosa sia anche l'amicizia. E Pietro scrive, c'è un passo che vorrei leggere, dice l'amicizia richiede anche la conoscenza di ciò che davvero costituisce il bene per noi e per chi amiamo. Cioè l'amicizia non è solo accondiscendenza, non è solo accettazione. Socrate non è che vuole morire giustamente. Non è solo affetto, quel capitolo sentito da proprio non è solo un volersi bene, è qualcosa di più. Esatto. E io condivido la lettura che Pietro fornisce della vicenda socratica. C'è una velata, magari non dichiarata, polemica con chi dice Socrate non ama più la vita. No, non è che non ama più la vita. È che c'è qualcosa d'altro che sta al di sopra e c'è questa frase molto bella che chiedo a Pietro di chiarire. L'amicizia può sconfiggere la morte. Ci arrivo a questa frase difficilissima, apparentemente incomprensibile, l'amicizia che può sconfiggere la morte. Fammi fare un passo indietro, Ivan, che centra l'amicizia con la politica. Questo è un ragionamento che nasce da una constatazione che riguarda ancora una volta noi, prima di andare a vedere i greci, gli antichi. Noi decliniamo l'amicizia, viviamo l'amicizia come una questione privata. È una cosa che riguarda la nostra sfera più intima. Quasi deliberatamente isoliamo e teniamo gli amici e i rapporti intimi dentro, io lo chiamo una specie di giardino segreto, un recinto privato, protetto, anzi, da potenziali influenze, contaminazioni che possono arrivare dentro questo giardino segreto degli amici, dal mondo esterno, dal lavoro, dalle cose pubbliche. Tendiamo cioè a rinchiudere le cose più intime, non solo l'amicizia, ma la stessa nostra felicità. La ricerca della felicità è per noi in primo luogo una questione privata che sviluppiamo quasi in modo indifferente rispetto al fatto che noi siamo anche dei soggetti pubblici, siamo dei cittadini, siamo dei lavoratori immersi nel contesto cittadino. queste cose noi tendiamo a separarle, come appunto se gli amici fossero dei compagni con i quali condividere le idee, gli effetti, le paure, i momenti più piacevoli, ma per l'appunto dentro una sorta di stanza dei giochi della vita, che è per noi la cosa più importante, dove in fondo ne va della nostra felicità, mentre invece poi c'è il resto, il resto è la vita fatta di mille ruoli sociali che dobbiamo rivestire durante la nostra vita, il lavoro, la comunità. Non tutti vivono questa cosa in maniera così netta, con questa cesura, anzi vi sono delle realtà, per esempio, io credo, dell'Emilia Romagna, rispetto ad altri luoghi del mondo, dell'Italia, dove c'è una maggiore integrazione tra pubblico e privato, e forse anche tra amicizia e politica. Però il trend, non italiano, ma globale dell'individualismo, della solitudine del cittadino globale, come per parafrasare il sociologo Baumann, tende a questo, cioè c'è il privato, dove ci sono gli amici, e la ricerca della felicità, e poi c'è il mondo esterno, che è un mondo globalizzato, incomprensibile, minaccioso, che ci cambia sempre sotto gli occhi, che ci fa soprattutto paura, che non riusciamo a comprendere. Quindi gli amici costituiscono, come dire, un'argine, un luogo, una safe zone, una zona sicura, di protezione, rispetto a questo mare in tempesta, che spesso è rappresentato dal mondo esterno. Questo accade, e non è un fatto di oggi, è frutto di una secolare tradizione, di affermazione dell'individuo, e della sua sfera privata, come qualcosa di diverso dalla sfera pubblica. La distinzione, la barriera tra pubblico e privato, è anzi un principio della nostra società. E' bene che ci sia, perché questo, quando invece il pubblico ha invaso il privato, nella storia del Novecento, l'esito è stato sempre devastante, attraverso, per esempio, i tanti totalitarismi di diverso colore che hanno funestato il Novecento. Quindi, questo è il punto di partenza, l'amicizia come una cosa privata, ma quindi anche parziale. Cioè, una cosa che sta lì in un cantuccio, per quanto prezioso, bello, quello a cui teniamo di più, rimane lì. Ed ha anche dunque un tempo limitato, il tempo libero, la sera, il weekend, le vacanze, cioè i momenti in cui possiamo deporre le diverse maschere pubbliche e liberare le nostre emozioni, confidare i nostri segreti, chiedere anche aiuto in caso di bisogno agli amici, ma sempre come se facessimo parte, passatemi il termine, di una confraternita segreta, nel senso che poi dopo c'è quell'altra parte della vita che con l'amicizia non ha a che fare. Ora, questo è il modo in cui noi la viviamo. E poi c'è la filosofia greca, poi ci sono Platone e Aristotele, poi arrivo a Platone, ma passo per Aristotele. Aristotele è il filosofo che per primo scrisse e tematizzò l'importanza dell'amicizia, lui parla di filia, che è una parola greca che noi sulla scorta dei latini con un po' di imprecisione traduciamo con amicizia. Filia, vi dico alcune frasi di Aristotele, è innanzitutto l'esperienza più importante della vita, è la messa in pratica della felicità, cioè è l'impegno concreto per essere felici. Se io voglio essere felice realizzando me stesso devo farlo insieme ai filoi, agli amici. Quindi questa è l'esperienza dell'amicizia. Ma filia non è una questione privata, è il cemento della polis, è ciò che tiene insieme la comunità politica. Dice Aristotele che le comunità politiche, le forme di governo del suo tempo, degenerano quando non c'è filia tra i concittadini, quando non c'è amicizia tra i concittadini. Dice di più, addirittura, nell'etica nicomachea, i saggi legislatori, quelli che disegnano le leggi e le forme di governo, tengono l'amicizia, la filia, più in conto della giustizia. Come se fosse per la tenuta e per la vita felice di una comunità, più importante l'amicizia che il rispetto delle leggi. Ovviamente questo per noi suona quasi incomprensibile, anzi, suona francamente un po' minaccioso. Noi siamo una civiltà basata sul diritto, sul rispetto delle leggi, poi c'è il rapporto tra i singoli e quando l'amicizia entra nella politica lo fa in maniera deleteria, nella forma dei clan, della cooptazione, degli amici degli amici, quindi dell'aggiramento delle regole, del merito, delle competenze creando dei disastri. Perché noi abbiamo un'impostazione completamente diversa, cioè contrapponiamo il pubblico e il privato per cui non ci sembra proprio il caso di far entrare l'amicizia e farle condizionare la politica. I greci partono da una prospettiva diametralmente opposta, forse troppo lontana addirittura da noi per poterci ancora dire qualcosa. Io mi pongo questa domanda. Tanto più che la versione estrema di questa politicità dell'amicizia è incarnata, secondo me, dal personaggio Socrate. Socrate di Platone, il protagonista dei suoi dialoghi, che non parla, parla meno dell'amicizia rispetto ad Aristotele. C'è solo un dialogo piccolino di Platone che si chiama l'Iside, dove viene messo a tema l'importanza dell'amicizia, si cerca di capire chi è l'amico e si dicono cose molto belle ma anche enigmatiche. Non c'è mai la chiarezza teorica di Aristotele che ci dice per bene che cosa è l'amicizia, la distingue tra l'amicizia nel nome dell'interesse reciproco, l'amicizia nel nome del piacere, l'amicizia nel nome della conoscenza. Queste sono cose che vengono dopo e sono di Aristotele. Socrate dice meno, però con il suo esempio forse ci dice ancora di più. Socrate incarna fino in fondo questa idea radicale dell'amicizia come modo di stare al mondo e come un modo di stare al mondo intimamente politico. Perché? E io vengo allora all'episodio che tu citi che è tra l'altro uno dei più importanti e famosi della storia della civiltà occidentale su cui mi azzardo addirittura a dare delle mie letture insomma ben consapevole che ci sono biblioteche che coprirebbero tutta questa stanza soltanto sulla morte di Socrate. Socrate viene accusato dai suoi concittadini non dai nemici. Viene accusato dalla democrazia ateniese con dei capi d'accusa ingiusti la corruzione dei giovani l'introduzione di nuovi dei l'impietà nei confronti degli dei della tradizione ateniese. Perché lo accusano? Perché non sopportano più quel suo modo di vivere sempre corrosivo confutativo polemico che non lascia mai nulla di così intero qualunque dogma qualunque tradizione qualunque credenza lui la passa sempre al vaglio dell'indagine razionale nel dialogo e quindi emerge come insopportabile alla fine perché chiunque abbia delle certezze quando si incontra con Socrate ne esce completamente smarrito perché queste certezze capisce che sono fondate sul nulla insomma nei piedi d'argilla questa cosa è benefica ma alla lunga è davvero devastante perché implica in ciascuno dei suoi concittadini una presa in carico della propria vita della propria missione su questa terra insomma lui sostanzialmente corrode le certezze per portare le persone a vivere davvero a prendersi in mano l'esistenza a capire chi sono però questa cosa fa male spesso e la gente non lo vuole di volta alle spalle di fronte a questa azione veritiera ma anche molto corrosiva di Socrate per questa ragione lui è messo a morte quando ha ormai 70 anni con delle accuse ingiuste di fronte alle quali non fa nulla per difendersi è celebre il racconto del processo a Socrate nel quale non solo non rispinge le accuse ma dice mi dovreste non condannare a morte per il modo in cui io ho vissuto ma mi doveste dare un premio il premio più ambito doveste farmi vivere a vostre spese nella più lussuosa residenza di Atene quello stesso premio che di solito date ai campioni olimpici quelli che vi fanno essere felici per un giorno durante le manifestazioni sportive io vi do una felicità molto più profonda rispetto agli atleti e ai grandi campioni perché è una felicità che dura tutta la vita quindi dovreste dare a me quel premio voi capite che alla giuria all'assemblea popolare di 500 persone che deve giudicare Socrate questa linea di difesa suona semplicemente ancora più irritante quindi lui non fa che scavarsi la fossa e è da arrivare così alla pena capitale la condanna a morte dalla quale non si sottrae neppure di fronte alla possibilità concreta di andare in esilio e la cosa bella che fa riflettere io apro il libro proprio su questo quel capitolo che si intitola Amicizia non è solo volersi bene la cosa davvero anche problematica è che i suoi amici più cari quelli che seguono Socrate da anni che gli vogliono veramente bene non accettano questa scelta di Socrate fanno di tutto per farlo scappare gli amici le persone più care non accettano l'idea di perdere il maestro l'amico più prezioso e mettono in atto dei piani di fuga ben sapendo che se lui vuole se ne può andare nessuno gli impedirà l'esilio perché in realtà Atene non lo vuole uccidere vuole solo liberarsene se lui accettasse di andare per esempio in Tessaglia a fare una vita da esule continuando le sue chiacchiere i suoi dialoghi filosofici nessuno glielo impedirebbe e gli amici di Socrate che sono poi uomini ricchi potenti rappresentano una sorta di establishment anche di Atene sarebbero dispostissimi a creargli un esilio dorato se lui andasse ma lui rifiuta e anzi rimane deluso dal fatto che i suoi amici più cari anche se gli stanno dimostrando affetto gli vogliono bene però non stanno capendo le ragioni della sua scelta e così facendo questi uomini ricchi e potenti che peraltro quando Socrate capiscono che non c'è niente da fare Socrate vuole morire non vuole scappare si sciolgono in lacrime il loro viso si bagna di copiose lacrime Socrate non è commosso non è toccato dal bene che gli vogliono ma al contrario le agisce stizzito indispettito li sgrida rimane deluso perché in quel loro dolore in realtà loro stanno si manifestando affetto ma non vera amicizia perché la vera amicizia in quel momento sarebbe comprendere che la scelta migliore per Socrate è accettare fino in fondo la condanna a morte e non mai andarsene solo per aver salva la vita perché quello è il dilemma incarnato da Socrate e dalla sua scelta rimanere lì in Atene significa dare al suo modo di vivere al suo essere sempre un filos un amico delle persone con cui si confronta e significa cioè uno che cerca da te amico che ho davanti di tirarti fuori il meglio di entrare in contatto con te stesso e con me stesso uno che vive così non può andarsene perché la polis è il luogo dove può realizzare la sua natura andarsene via in esilio per paura di morire significa dare alla vita fisica all'integrità del suo corpo alla sopravvivenza pura e semplice anche se per un breve momento un ruolo maggiore rispetto alla vita nell'amicizia questo è il punto questa è la scelta che Socrate compie per cui in quel momento lui vince non la morte nel senso che si consegna ad una vita eterna ma vince la paura della morte raggiunge cioè l'unica immortalità che a noi umani è concessa dal punto di vista di Socrate che è l'immortalità in vita quando si sconfigge la paura della morte perché più forte è la volontà di rimanere dentro il proprio etos da amico fino in fondo alla ricerca della verità i suoi amici più cari quelli che darebbero tutto per salvarlo si disperano piangono rimangono travolti dal dolore della perdita però in questo modo mancano quel passaggio ulteriore cioè non capiscono perché invece Socrate sia addirittura felice di andare a morire chiaro questa è un'immagine letteraria non è che dobbiamo imitarlo però è anche un paradosso se vogliamo quello che Platone ci offre come sempre che lui scrive per paradossi quel paradosso lì dell'uomo che va felicemente a morire che addirittura saluta la morte come una guarigione guarigione appunto dalla paura della morte dovrebbe essere riconosciuta anche dai suoi amici e i filoi come un momento positivo e invece loro rimangono come dire prigionieri della tristezza è difficile dargli torto anche noi saremmo nella stessa condizione quindi a volte è quasi disumana l'amicizia incarnata da Socrate però questa immagine così estrema radicale difficile da accettare in fondo ciascuno di noi sarebbe insieme lì con gli altri amici di Socrate c'è quel bellissimo basso rilievo del Canova che rappresenta le parti finali della vita di Socrate si vedono questi amici in lacrime anche noi saremo con loro è chiaro e però facciamo tesoro e io questo ho voluto fare nel primo capitolo del libro di questo messaggio ulteriore e radicale per il quale l'amicizia non è soltanto il voler bene a un amico e il disperarsi perché muore è qualcosa in più implica la conoscenza e in quel caso significherebbe capire che la scelta di Socrate è la scelta migliore e sarebbe dunque da salutare con gioia e addirittura come dice lui con le ultime parole sacrificando un gallo ad Asclepio cioè compiendo il rito che si fa quando una persona guarisce da una malattia difficilissimo da capire però io credo estremamente stimolante per quanto quasi paradossale il quanto ci in strada verso un'idea di amicizia molto più scomoda se vogliamo ma molto più impegnativa e io lo credo fortemente molto attuale in grado di parlare anche a noi 2500 anni dopo Socrate sì Socrate certamente era una figura estremamente scomoda e alla fine è andato incontro a un destino che si può spiegare in questo modo io quello che dicevi prima l'ho l'ho sempre capito con una polarità che non sono sicuro sia attribuibile a a Socrate a Platone diciamo no forse ci viene da una tradizione più vicina a noi temporalmente però è la polarità fra autentico e inautentico no cioè l'inautentico è come vivere secondo dei canoni che ci vengono da qualcosa che è esterno a noi vivere in modo abbastanza dispersivo in fondo no si vive nel se nel si dice si vive nel si fa così attorno a noi abbiamo imparato degli automatismi no e questa sarebbe un po' una vita che comporta però poi una rinuncia consistente una grossa rinuncia intorno alla potenza che ci portiamo dentro ecco allora forse Socrate rimane deluso perché dopo aver dedicato tutta la vita al dialogo nelle piazze nelle palestre al dialogo con gli altri basando proprio la relazione nella ricerca di qualcosa di non utilitaristico non finalizzato al vantaggio ma finalizzato a questa autenticità che consiste poi in fondo nella ricerca più che essere la meta il punto fondamentale così capisco Socrate è il viaggio che si compie attraverso il rapporto con gli altri ecco allora lui rimane probabilmente deluso perché nonostante questo lungo rapporto con gli altri che lo circondano i suoi allievi beh c'è qualcosa forse che non hanno capito c'è qualcosa che è sfuggito no questo ci porta a un altro tema che è trattato con attenzione nel libro ed è gli amici come sono tra di loro si assomigliano gli amici qual è il grado di affinità solitamente si dà per scontato nell'analisi del sentimento dell'amicizia che gli amici si debbano assomigliare in fondo anche Aristotele che abbiamo citato prima tra i requisiti che favoriscono la fioritura dell'amicizia ci mette questo punto cioè l'affinità l'amore per la conoscenza peraltro ci vuole anche un numero piuttosto ristretto dice Aristotele non si può essere così amici di tutti e ci vuole anche una frequenza cioè una costanza nel tempo Pietro dice la somiglianza dell'amico agisce come un balsamo addolcisce una realtà che fatichiamo a riconoscere ci rende il mondo un po' meno alieno questo lo sperimentiamo tutti credo il mondo ci pone grandi difficoltà e attraverso l'amicizia noi col fatto stesso che parliamo agli amici chiariamo a noi stessi quello che abbiamo vissuto in fondo lo proviamo un po' tutti l'amicizia ha proprio questo tratto poi credo che sia esperienza di tutti quanti il fatto di essere inclini all'amicizia quando condividiamo un aspetto fondante di noi stessi con gli altri credo che lo scambio di parole comporti l'accordatura l'accordatura è un fatto faticoso un'orchestra prima di un'esecuzione deve passare del tempo ad accordarsi le parole sono di per sé ambigue noi usiamo il linguaggio per coltivare l'amicizia ma le parole hanno dentro di sé una forte dose di ambiguità e l'abitudine a riconoscersi i significati attraverso il linguaggio comuni comporta del tempo comporta una profonda accordatura e credo che per esempio per fare un esempio di cosa mi ha suscitato questa parte del libro per esempio sentiamo probabilmente più facile questa accordatura con chi condivide il senso dell'umorismo con chi condivide un modo di ridere Pietro fa degli esempi che partono dalla sua esperienza personale ne faccio solo uno io per me che sono un lettore appassionato di Thomas Bernard quando sento che il lettore di Thomas Bernard non sente solo il lato terribile tragico che c'è nelle pagine di Bernard ma anche il lato comico beh allora diventa molto più facile avere quella attrazione della semilitudine eppure per certi aspetti in contraddizione con quello che abbiamo detto fin qui questo non va del tutto bene a Socrate l'amico attrae quando anche qualcosa di diverso e cito un punto la filea di Socrate ci spinge a mettere in discussione il desiderio di consumare sempre di più eretto a sistema sociale economico e politico e questo rimanderebbe secondo me anche al fatto che l'amicizia comporta qualcosa che non è il consumo immediato quindi due questioni ti porrei quella appunto dell'affinità e quella del valore un po' eversivo che per certi aspetti può avere l'amicizia come dicevi giustamente tu io amo Socrate per questo perché continua sempre a spiazzarmi quando io raggiungo una certezza nella vita oltre che nel pensiero poi mi confronto con Socrate tutte le certezze crollano però non è negativa questa cosa perché poi scopro delle verità più preziose più profonde anche di me stesso allora tutti noi inevitabilmente sin da quando siamo bambini sperimentiamo l'amicizia come somiglianza come affinità la gioia di trovare qualcuno che la pensa come me che ha la mia stessa sensibilità con il quale basta una parola per intendersi perché magari abbiamo alle spalle un vissuto comune siamo vissuti nella stessa città nello stesso quartiere abbiamo le stesse passioni abbiamo più o meno la stessa età il fattore generazionale che è molto importante abbiamo le stesse idiosincrasie crediamo nello stesso dio tifiamo per la stessa squadra di calcio quindi dall'alto al basso insomma abbiamo molte cose in comune e questa affinità più o meno elettiva ma non scomodiamo Goethe è il centro la base dell'apporto di amicizia e che dunque agisce dico io appunto addolcisce come un balsamo la vita che è sempre più incomprensibile minacciosa il mondo di fuori che ci sfugge di mano che non riusciamo a capire che cambia volto e questo mi sembra sembrerebbe come dire un punto fermo su questo ci possiamo sedere come dire tranquilli l'amicizia è questo è somiglianza e poi arriva Socrate che nell'unico dialogo dove cerca di dare una definizione dell'amicizia e dire ma chi diavolo è veramente un filos un amico arriva anche lui da prima sta facendo una chiacchierata estenuante spesso come le sue con due giovani ragazzini in una palestra di Atene due adolescenti più o meno dell'età di quelli che erano ieri sera qua in piazza molto amici tra di loro che lui sceglie come l'iside menesseno si chiamano come gli interlocutori migliori per parlare di amicizia sono così amici loro due che saranno anche degli esperti di amicizia sapranno bene che cos'è un amico visto che la loro amicizia sembra proprio inossidabile inizia questa lunga chiacchierata come sempre fatta di domande risposte di certezze che crollano grazie alla quale a un certo punto in effetti anche Socrate sembra arrivare ad un punto fermo l'unica cosa che possiamo dire dell'amicizia è che essa dipende dalla somiglianza l'amico il simile è amico del simile sono tuo amico diventiamo amici in virtù di una somiglianza che ci unisce di tratti esteriori soprattutto determinati dalla nostra vita dal fatto di essere coetanei dello stesso ceto sociale della stessa fede o lingua della stessa città e queste cose ci aiutano a diventare amici quanto più è forte l'affinità quanto più scaturisce un rapporto di filia fin qui dunque come dire non fa che confermare quello che sentiamo anche noi fin da bambini però come al solito Socrate che a me in questi frangenti ricorda un po' il tenente Colombo non so se ve lo ricordate che quando arrivava al risultato pacificamente se ne usciva dalla stanza poi però si fermava e tornava indietro dicendo però c'è un dettaglio che non mi convince se posso interromperti solo perché il tenente Colombo è proprio maieutico per certi aspetti perché porta il colpevole alla fine a riconoscere apertamente che è colpevole e lo fa senza aggredire senza aggredire anzi perché è la verità che gli si impone lui raggiunge un risultato però questo risultato è parziale e ripensandoci come spesso accade a Socrate che rimane proprio anche lì fermo impalato e comincia a pensare non è convinto e torna indietro Socrate non è convinto che la chiave della somiglianza sia la più giusta per spiegare il segreto dell'amicizia al contrario dice lui il vero amico non è colui che ha ciò che io ho l'amicizia non si basa sull'avere le stesse caratteristiche al contrario l'amico è colui che ha ciò che io non ho e in tal modo smonta tutta quell'impalcatura basata sull'affinità e la somiglianza che cosa ci dice questa frase così come la solita enigmatica lanciata come un sasso su una lastra di cristallo che sarebbe invece la nostra raggiunta certezza che gli amici sono simili che l'amico esercita su di me quella forza di attrazione in grado di appunto farmi entrare in contatto con me stesso esprimere l'energia creativa che ciascuno di noi ha dentro non perché mi rassicura in quanto è uguale a me al contrario l'amico vero è quello che entra in connessione con me proprio in virtù di una sua affascinante diversità l'amico mi attrae perché certo ha con me in comune le parole i linguaggi alcune passioni ma il nucleo profondo dell'attrazione tra amici non è la somiglianza bensì la diversità l'amico vero è quello che con l'affetto le parole condivise le sensazioni condivise mi tiene legato a lui dalla diversità c'è qualcosa che mi attrae in lui che mi attira verso di lui perché lui ce l'ha e io no e viceversa ed è in questa radicale diversità delle nostre anime che si basa il vero profondo rapporto d'amicizia inteso come un continuo arricchirsi perché l'amico vadate appunto e qui ritorno a quello che dicevo all'inizio non è soltanto quello che mi acquieta che mi calma di fronte ad un mondo che invece mi fa paura l'amico non è solo conforto protezione al contrario l'amico è quello che mi stimola a volte è impegnativo perché mi tira fuori le passioni quelle più scomode che mi porta a fare delle cose anche faticose che mi ingaggia in delle tra virgolette sfide a fare delle cose belle ma pesanti insieme io dico a un certo punto l'amico vero non è quello che mi acquieta è quello che mi inquieta perché mi stimola ad agire ad andare più incontro a me stesso magari anche contro la pigrizia che invece vorrebbe rimanermi lasciarmi lì nel tiepido riparo delle mie abitudini delle mie tradizioni delle mie idee consolidate delle mie piccole certezze no l'amico arriva come una forza dirompente in questo senso vengo anche alla seconda parte della tua domanda l'amicizia allora è anche come dire dispersiva quasi eversiva tu dici è destabilizzante l'amico vero nella mia vita perché agisce come una forza dirompente che a volte rompe gli equilibri e tutte le cose rassicuranti che io inevitabilmente mi costruisco ogni giorno per stare tranquillo per difendermi dalle minacce esterne in questo senso lui è quasi che mi tira fuori di casa e mi porta a fare delle cose magari un'altra parola categoria fondamentale da mettere insieme all'amicizia è la parola avventura che non è solo l'avventura alla Indiana Jones è l'avventura nel senso dell'uscire dal guscio comodo della propria identità personale per andare a fare delle cose potenti forti stimolanti insieme credo che sarà anche la categoria alla quale dedicherò il mio prossimo libro faccio questa anticipazione e da questo punto di vista allora è anche davvero antieconomico nel senso che spesso faccio con l'amico delle cose che non rientrano nella categoria dell'utile dell'accumulo della utilità che ne so professionale l'amico non è quello che mi serve sul lavoro per far carriera tanto per intenderci ci sono altri rapporti Aristotele da questo punto di vista li mette anche fa una classifica ci sono anche le amicizie basate sul reciproco interesse ma quello è un grado inferiore che non ha nulla a che fare con l'amicizia intesa come un reciproco conoscersi tirandosi fuori l'un l'altro quello che di più prezioso abbiamo dentro ma perché ciò accada ripeto la chiave non è la somiglianza addirittura dice Socrate provocatorio come al solito è la diversità con tutte le conseguenze che questo può avere in un tempo come il nostro che ha invece un'enorme importanza alla identità esteriore ai tratti esteriori culturali religiosi linguistici come dire l'unica certezza che abbiamo per fare comunità anche da questo punto di vista dunque è politica l'amicizia ed ha una forza come dicevite eversiva sì mentre parlavi pensavo a questo che molto spesso siamo portati a vedere quello che c'è come definitivo cioè la contrapposizione tra ecco io sono così no ci sarà capitato a tutti di incontrare altre persone che ci sbattono in faccia il modo attuale di essere loro sono così in questo momento e pretendono di fare del modo in cui sono in quel momento un valore eterno eterno commisurato all'esistenza terrena ecco no io sono così ma così è la pietra così è il sasso così è la realtà non del vivente no allora in questo senso l'amicizia d'accordissimo ha la forza di tirare fuori una potenza cioè di trasformarci proprio in virtù del fatto che l'amico è certamente qualcosa con cui abbiamo in comune molte cose ma contemporaneamente ha qualcosa d'altro e quel qualcosa d'altro ci fa da resistenza ci fa da resistenza in fondo magari se abbiamo poi tempo toccheremo anche il rapporto tra amicizia e amore passionale che viene trattato a partire da una riflessione di Montaigne ecco però secondo me un altro punto legato a questo che funziona in qualche modo con lo stesso schema no è il rapporto tra amicizia e la bellezza che può essere sorprendente però poi andandoci a fondo non è così sorprendente cito un passo ogni manifestazione del bello si tratti di un brano musicale di un paesaggio di un'opera d'arte del volto di una persona che ci piace ha a che fare con l'amicizia le cose belle tacca là di cui facciamo esperienza sono tali perché fanno riecheggiare in noi quelle vibrazioni uniche forti dolcissime la cui fonte originaria è l'amico bello insomma è ciò che manifesta l'amicizia credo che anche questa sia un'esperienza comune davanti alla bellezza tendiamo a dire ecco guarda questo ecco guarda lo dobbiamo condividere con qualcun altro così vale perfino col buono col buono pensiamo a quanto quando siamo a cena con amici amici cari o con la persona che amiamo tendiamo quando ci piace una cosa dire assaggia fa parte dell'accordatura che dicevamo prima ma allora nel libro viene poi aperto uno squarcio su una cosa che anch'io personalmente l'ho vissuta allo stesso modo l'ho intuita così ed è cosa succede quando si entra nella sala di Bruegel al e lì abbiamo a che fare con una cosa straordinaria io non è che sia andato tantissime volte a Vienna però ogni volta che sono andato a Vienna sono andato in questo museo anche un po' frettolosamente passando per le altre sale e arrivando lì cioè dove ci sono i dipinti di Bruegel e cos'è che è meraviglioso in questi dipinti non so il ciclo dei mesi viene citato da Pietro giornata buia i cacciatori nella neve cos'è che è meraviglioso in queste opere di Bruegel è la varietà è la varietà il molteplice che però è associato è l'unità nel molteplice no? e a rafforzare l'ipotesi che la bellezza comporti proprio questo tratto cioè che abbia a che fare con la varietà viene citato Montegna è un passo molto bello dice Montegna non conosco scuola migliore per formare alla vita che presentarle continuamente la diversità di tante altre vite opinioni usanze e farle assaggiare una così continua varietà di forme della nostra natura cioè la bellezza come varietà no? Montegna allo stesso modo parla della conversazione ci sono dei passi bellissimi dove dice che il piacere del conversare perché? perché è l'apprezzamento della varietà e quindi questa varietà che ha proprio a che fare con la bellezza e con il fatto che l'amico non serve solo a confermarci in quello che già sappiamo cioè in qualche modo oserei dire che l'apertura all'amicizia comporta una personalità non dogmatica non fissata nelle proprie convinzioni e quindi l'apertura all'amicizia comporta forse lo dico in termini proprio di domanda una certa educazione un po' come nei sentimenti perché è faticoso imparare è faticoso imparare ad accettare la diversità e siamo attratti ma nel contempo possiamo avere paura delle disconferme che ci vengono da questo fatto ti pongo la domanda me ne hai poste tante Ivan provo a partire dal primo punto e vediamo se arrivo anche a quest'ultima il rapporto tra l'amicizia e la bellezza che io affronto nel libro consapevole che è una roba difficile ci sono sempre arrivato grazie a Socrate premetto questo libro non ha solo Socrate ci sono i filosofi Platone Aristotele Montegni più vicino a noi ma c'è un continuo riferimento come ho sempre fatto nei miei libri alla vita contemporanea dovuto il fatto che io poi ho una doppia vita di studioso e di uno che sta immerso alla radio tutti i giorni nella quotidianità e non sono appunto due parti separate della mia esistenza ma anzi trovano in questi libri io credo una loro sintesi molto per me viene dall'esperienza quotidiana dall'ascolto dei problemi di oggi allora l'amicizia e la bellezza che c'entrano Socrate in quello stesso dialogo dove cerca con i due ragazzini di capire chi è un vero amico a un certo punto si arriva a questa cosa della somiglianza poi dice che non è vero che l'amico non è il simile e si trova anche lui però smarrito dovete capire che Socrate non dà mai definizioni non offre mai certezze qui però anche lui è quasi tramortito dall'incapacità di arrivare a una definizione dell'amicizia e dice io stesso mi sento in preda ad una vertigine del ragionamento tutto mi crolla tra le mani l'amicizia mi scivola via non riesco ad afferrarla so che l'amico è la cosa più importante della vita l'amico è il bene più prezioso e però non riesco a definirla è un bel problema a un certo punto scomoda un antico proverbio secondo il quale l'amico dice Socrate è come il bello li mette insieme il filos e tocalon il bello nel senso proprio della bellezza entrambi l'amicizia e la bellezza non riescono ad essere definite ci sfuggono dalle mani non hanno dice lui delle parti ruvide che ci consentono di fare attrito e afferrarle per dire ecco questa è l'amicizia ecco questa è la bellezza sono lucide lisce scivolose e in questo loro però scivolarci via di mano ogni volta che cerchiamo di definirle sia l'amicizia che la bellezza sono anche lucenti emettono luce quindi evidentemente rischiarano una zona oscura che hanno intorno a sé cioè a dire anche se non riusciamo a definirle con un concetto univoco l'amicizia e la bellezza tuttavia ci fanno conoscere cose che prima ignoravamo ed è una cosa bellissima questa pur in tutta la sua enigmaticità ora io provo a ipotizzare io una mia interpretazione di questa identità tra l'amicizia e la bellezza perché Soccer te le mette proprio sullo stesso piano non è che dice l'amico è una bella cosa nella mia vita come se l'amico è il soggetto e la bellezza è una qualità che pertiene a questo soggetto umano no lui dice che l'amico e il bello sono la stessa cosa proprio li identifica come se l'amicizia e la bellezza fossero in realtà due parole che derivano dalla stessa sorgente dalla stessa esperienza che possiamo fare nella vita come se appunto le cose che provo con un vero amico quella condivisione profonda che non è solo il divertimento del weekend ma è il piacere di stimolare insieme l'uno nell'altro le potenzialità le idee l'energia creativa quella cosa lì abbia intimamente a che fare con il rapporto che noi abbiamo con la bellezza quando vedo un paesaggio un'opera d'arte una sala meravigliosa un teatro come questo un paesaggio che mi emoziona un viso che mi piace beh scattasse in me qualcosa di simile a quello che scatta quando sto con l'amico come se toccassero le stesse corde l'esperienza dell'amicizia e l'esperienza della bellezza e allora io provo a dare una spiegazione di questa identità tra l'amicizia e la bellezza partendo dalla mia esperienza personale tu hai ricordato un aneddoto che è molto banale milioni di persone sono andate a vedere i quadri di Bruegel al Kunststorische Museum di Venni io ci sono andato con i miei genitori quando ero adolescente sono rimasto colpitissimo da questi quadri da questi ritratti corali molta neve molto ghiaccio perché all'epoca l'Europa viveva una vera glaciazione tutti che pattinano che giocano storie personali diverse che però nella loro diversità stanno dentro una cornice unitaria per me quello è stato una sorta di imprinting io ho sempre percepito la bellezza come l'armonia che scaturisce da una grande molteplicità di un paesaggio di un quadro di una situazione la tensione continua tra la diversità massima che si può produrre in uno scenario che guardo con gli occhi e però il senso che c'è un'armonia profonda che la collega quello che accade nel rapporto d'amicizia io credo sia sostanzialmente la stessa cosa cioè l'amicizia è tale perché tira fuori tutto quello che io ho dentro tutte le mie inclinazioni idee qualità non ne rimuove nessuna ecco il valore dell'amico non mi porta a cancellare una parte di me a rimuoverla perché non va bene perché stona è totale la sincerità e l'apertura tra gli amici quindi tira fuori tutta la mia molteplicità ma gli dà finalmente una forma un'armonia che non è chiaramente un'armonia statica un'identità fissa scolpita nella pietra è appunto un'armonia musicale bisognerebbe insistere sull'importanza della musica e dell'educazione musicale per sperimentare la bellezza e l'amicizia secondo Platone quindi l'una e l'altra l'amicizia e la bellezza hanno a che fare con una armonia del molteplice sperimentata nell'osservazione di una cosa bella o nella condivisione dell'esperienza di un amico che sono in realtà poi credo la massima espressione della natura umana e come dire la via quella sì alla ricerca della felicità la felicità passa attraverso questa continua ricerca dell'armonia del molteplice che tenga però sempre il massimo grado di varietà delle nostre espressioni e quello che sperimentiamo senza mai sacrificare una parte di noi stessi delle nostre idee delle nostre emozioni io mi baso su questo addirittura ho trovato degli articoli scientifici che ci descrivono cosa accade al cervello umano di fronte a un paesaggio naturale e ormai le neuroscienze sono in grado di dimostrare che vi è un maggior grado di benessere di riduzione dello stress cerebrale quando abbiamo di fronte a noi un paesaggio naturale rispetto a un paesaggio urbano che ha al suo interno una complessità di forme infinitamente superiore se noi una persona cresciuta in un contesto naturale dove c'è un'infinita varietà di forme rispetto a un contesto urbano dove ci sono comunque delle linee tendenzialmente regolari ed omogenee sviluppa al proprio interno un senso di armonia del molteplice che coincide con un maggior benessere addirittura con una maggiore capacità cognitiva c'è un capitolo del mio libro del rapporto con la natura dove provo a mettere insieme addirittura queste interessanti affascinanti scoperte delle neuroscienze e le cose che dico prima sull'armonia del molteplice però la chiave è quella e quindi l'amico è colui che tira fuori tutta la varietà che io ho e me la fa mettere in un'armonia quando sto insieme a lui e la stessa armonia del molteplice è quella che sperimento di fronte alla bellezza questa diciamo è la mia tesi abbiamo tempo ancora per una domanda Liliana allora io nel libro poi c'è un è proprio come nella conversazione di questa mattina cioè la filosofia fa luce la filosofia si intreccia con la vita aiuta a a interpretare no? allora c'è una parte del libro dedicata al rapporto tra l'amicizia diciamo e la natura la fysis no? cioè che atteggiamento abbiamo verso la natura l'atteggiamento dominante nel nel nostro mondo ha una storia che ci viene da 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 un lontano passato è di usarla di usarle basta è un atteggiamento predatorio è detto nel libro no? eh l'amicizia ha invece la qualità di far convivere le differenze e sono persuaso anch'io che la varietà delle forme aiuta cognitivamente no? mi ricordo che il mio amato professore all'università di Bologna diceva che l'intelligenza è la capacità di distinguere le differenze no? e l'intelligenza evidentemente si sviluppa nella capacità di distinguere le differenze fra le cose ma bisogna che le differenze fra le cose non siano annullate no? nell'uso predatorio appunto che tante volte facciamo del mondo che ci circonda tendiamo ad uniformare le cose allora l'amicizia appunto ha questa potenza di far convivere le cose diverse no? e dentro una cornice unitaria e induce ad avere un atteggiamento probabilmente non soffocante non predatorio non discriminante ecco questo trova nel libro un punto secondo me altissimo nella riflessione su una poesia di Baudelaire c'è l'albatro che è un uccello marino che vola re dell'azzurro dice Baudelaire e che poi a un certo punto accompagna la nave e che a un certo punto viene a si depone sulla tolda della nave e i marinai lo bullizzano lo bullizzano letteralmente cioè l'albatro che è un uccello straordinariamente bello da vedere quando vola nel cielo sulla tolda della nave è goffo è impacciato io mi sono andato a rileggere o non l'ho leggetto da tanto questa bellissima poesia di Baudelaire lo stuzzicano con la pipa lo 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 provocano insomma ed è goffo allora io ho un po' l'impressione e adesso la domanda finale è questa è che l'amicizia ci aiuti a coltivare quelle che Spinoza chiama le passioni gioiose mentre nell'atteggiamento di consumo nell'atteggiamento dei marinai cosa prevale? Prevalgono quelle che invece Spinoza chiama le passioni tristi la passione triste dell'invidia la passione triste del rancore la passione triste della paura no? e e quindi perché attorno a noi tanto spesso ma infatti di cronaca no? prevale una una un uso anche violento questa prevaricazione del nei confronti del diverso è un punto che attraversa il tuo libro no? e che fa proprio appugni con quello che abbiamo detto fino adesso intorno al valore dell'amicizia al valore della bellezza che è la proprio la convivenza di parti varie no? dentro un quadro unitario e l'esempio dei marinai che stuzzicano l'albatro è proprio corona questo questo discorso che è svolto un po' come tratto continuo in tutte le pagine del libro sul rapporto con la natura io dedico un capitolo a questo perché è sempre Platone che ci insegna a capire come l'amicizia di cui abbiamo parlato sin qui al centro del mio libro non è soltanto una questione umana ma è una questione cosmica vivere fino in fondo quel modo di relazionarsi all'amico significa in realtà accordarsi questo è un altro protagonista dei dialoghi di Platone non Socrate ma un grande matematico Timeo accordarsi a un movimento cosmico perché se c'è una cosa che nella cosmologia mitologica letteraria di Platone rimane e addirittura è oggi riconfermata dalla scienza dell'infinitamente piccolo io metto insieme delle riflessioni cosmologiche di Platone con delle cose a cui sono stato condotto a riflettere dall'incontro con un grande fisico italiano Guido Tonelli che è uno di quelli che hanno partecipato al CERN a Ginevra la scoperta del bosone di X che ha scritto anche questo libro rivulgativo sulla genesi dell'universo e che conferma come la materia profonda da ogni cosa sia il movimento anche la superficie di questo tavolo che ci sembra fissa stabile e in realtà si è osservata con gli strumenti della fisica contemporanea un continuo sommovimento ci sono terremoti inarrestabili cellulari all'interno anche della superficie più piatta e levigata tutto è movimento questa è la grande intuizione platonica che si ripercuote anche sull'etica cioè vivere l'amicizia vivere in quel modo il rapporto con gli altri che è il miglior modo di stare al mondo sostanzialmente anche se non ci sono ricette poi ciascuno lo declina come vuole significa far agire dentro di sé il movimento cosmico questo continuo processo cioè non pensare che il giusto dal punto di vista umano sia nel dogma nell'arrestarsi nell'acquisire delle certezze granitiche di fronte alle quali gli altri possono essere o amici o nemici ma senza mai dialogo senza possibilità di confronto il movimento continuo per allenarsi a vivere costantemente in movimento dobbiamo coltivare la ginnastica del corpo e la musica per l'anima perché sono le due arti che più ci tengono sempre appunto dentro l'armonia universale evidentemente questo ci parla molto da vicino perché un po' anche sulla base di quanto vi dicevo prima rispetto alla natura che ci circonda e all'effetto benefico che ha su di noi dobbiamo capire che questo modo di relazionarsi al prossimo che io in qualche modo propongo questo libro contiene non tanto una teoria quanto una proposta di intendere l'amicizia e anche di viverla nella propria vita implica anche un rapporto diverso con l'ambiente naturale di cui siamo e lo scopriamo davvero parti e non noi siamo eredi di una lunga secolare tradizione di progresso scientifico tecnologico che ci ha consentito di raddoppiare la vita media di combattere le malattie che ha però come suo costo diciamo nascosto il fatto di aver depredato e saccheggiato le risorse naturali intese come un filosofo come Heidegger c'è un fondo a disposizione la natura è una specie di materia inerte senza anima la cassetta degli attrezzi degli esseri umani che la usano soltanto per i propri fini questa cosa ci ha consentito un straordinario progresso almeno per una parte dell'umanità di cui dobbiamo essere fieri a cui non dobbiamo rinunciare in nessun modo dobbiamo però essere consapevoli del prezzo che stiamo pagando un prezzo che tra l'altro in queste ore si sta di nuovo come sempre in autunno verificando nel nostro territorio i dispersi in Piemonte le alluvioni quello che è successo in altre parti d'Italia durante l'estate e il cambiamento climatico che si sente nel nostro paese più che in altri il riscaldamento globale è frutto di questo atteggiamento predatorio è il momento di rendersi conto che siamo parti di un processo più grande e non invece gli unici protagonisti del pianeta che hanno a disposizione un infinito materiale per i propri fini tutti umani in questo senso dunque io insisto sul concetto quasi paradossale che l'amicizia come la intendo io non è solo una cosa umana ma ha a che fare con l'ambiente circostante in qualche modo anche sono rimasto io colpito affascinato dal successo e dalla presa che sui ragazzi ha per esempio il discorso della tutela dell'ambiente gli adulti tra i quali mi ascrivo anch'io sono più indifferenti i più giovani forse perché hanno gli occhi puntati al futuro sono molto più sensibili alla cura e alla tutela e a fare dell'ambiente naturale parte del loro orizzonte dei loro interessi l'albatro all'albatro di Baudelaire io ci arrivo in un altro modo perché mi ha ricordato una figura platonica anche in Platone nel Fedro c'è un uomo a cui spuntano le ali quando vede la bellezza e si eleva sopra la quotidianità si eleva sopra le bassezze rutinarie e quotidiane di quelli che pensano solo a consumare a soddisfare i propri desideri le proprie brame questo albatro però esattamente come l'uccello agognante di Platone è deriso non è capito chi non ha la stessa disposizione d'animo non lo apprezza nella sua volontà di volare e appunto lo denigra lo bullizza facendo prevalere invece altri sentimenti altre emozioni molto più diciamo di stretto di corto respiro c'è però in quell'immagine non solo l'idea di una sconfitta quindi l'anima bella incompresa ma al contrario la capacità di resistere e di offrire invece a chi le vuole cogliere un'idea di bellezza e di amicizia che io ritengo non solo destinata a soccombre ma al contrario e in questo senso mi riscopro ottimista destinata anzi a prevalere se puntiamo gli occhi di più su noi stessi e sui nostri bisogni profondi c'è in Platone prima di passare alle domande del pubblico osservavo solo che c'è in Platone un aneddoto bellissimo sulla figura di di Talete che tra le tante cose era anche astronomo e c'è questo aneddoto dice che appunto Talete camminando a un certo punto cade in una buca perché guarda il cielo e lì vicino c'è una una serva una servetta tracce che si mette a ridere allora potremmo magari diamo la parola al pubblico che proprio quello che diceva Pietro comporta un prezzo che forse vale la pena di essere pagato coltivare questo valore può comportare qualche costo ma come ci dice quest'aneddoto vale la pena non so se Liliana è ora no? Prego però forse non la sentono tutti le portano un microfono così la sentono anche dietro se no la sento solo io brevissimo è acceso sì non so forse non ho capito bene quando il professore è a posto per praticare l'amicizia bisogna nascere con la predisposizione oppure è una provocazione la mia o lo si acquisisce strada facendo cioè bisogna avere la vocazione oppure bisogna lui ha parlato di educazione e bisogna essere educati a essere amici poi una piccolissima battuta sulla politica una volta c'era un partito politico una parte politica che si definivano amici invece gli altri si definivano compagni quelli che si definivano amici ci tenevano a specificarlo era l'ADC la parte del centro ci tenevano a specificarlo e a ritenersi un gradino più alto perché si chiamavano amici fra di loro non so se è una cosa che può suscitare una riflessione grazie allora sul sul nascere o acquisire nascere già amici già imparati o su acquisire questa idea di amicizia è chiaro che io mi sto riferendo a una caratteristica che è dell'umano in quanto tale ogni essere umano ha questa propensione a vivere a cercare rapporti che gli consentano di sviluppare quell'armonia nella propria varietà quindi a tirar fuori quelle sue energie creative che albergano in ciascuno di noi non è che qualcuno sia più dotato di altro poi è chiaro che siamo tutti diversi ma questa diversità non è un limite e anzi una straordinaria ricchezza quindi va da sé che la domanda è quasi si risponde a sola non è che c'è chi è destinato ad essere amico e chi proprio non ha le caratteristiche per diventarlo deve rimanere sempre solo o con rapporti parziali o con rapporti soltanto strumentali perché appunto qual è il problema che molti di noi vivono rapporti interamente strumentali con il prossimo perché serve per far carriera per diventare più ricchi oppure hanno rapporti puramente edonistici quella è l'altra amicizia parziale di cui parla Aristotele rapporti basati solo sullo scambio di piacere magari fisico o di altra natura che però non mettono veramente in gioco quelle sono amicizie incompiute cioè non sono amicizie in grado di sviluppare tutto il potenziale della filia che è appunto lui dice la messa in pratica della felicità a quella filia tendiamo tutti uso un parolone difficile forse pericoloso per natura è la natura umana che ci indirizza a questo tipo di rapporto l'educazione è una bella domanda non a caso viene da un insegnante questa riflessione sull'educazione sentimentale all'amicizia credo che ci debba essere una forma di educazione a questo modo di stare al mondo che non necessariamente però richiede un maestro che sta più avanti ma che sia io credo piuttosto nel reciproco educarsi degli amici che scoprono tra loro questa comune tensione questa comune volontà anche di vivere esperienze profonde e di come dire aiutare perché l'amico agisce da specchio dell'amico è un altro passaggio di Socrate molto bello io nell'amico mi rispecchio e trovo me stesso ma evidentemente ciò accade proprio quando lui fa la stessa cosa con me è un rispecchiarsi che o è reciproco o non è quindi credo nell'educazione all'amicizia non tanto dall'alto in basso con un maestro che mi spiega come fare quanto invece dal reciproco impegno tra pari livello tra amici che insieme tra mille errori delusioni perché non è un cammino irenico piacevole anzi è irto di ostacoli di rottura di incomprensioni è una tendenza che noi abbiamo connaturata e che può trovare uno stimolo e appunto una specie di educazione credo nel rapporto tra pari ci credo moltissimo più che non invece in qualcuno che mi magari attraverso le pagine di un libro non sia mai non è questo il mio intento mi dica come fare a vivere l'amicizia quanto alla domanda su compagni e amici non so da risponderle c'è c'è un'altra c'è un'altra mano qua sulla sinistra o destra la mia destra le arriva il microfono allora sono riflessioni no e sono che devo sintetizzare se no mi danno la multa amicista politica Ivan sono Luca ti ricordi no ecco noi eravamo in uno schieramento contro un altro schieramento no io che ero un po' più ero più cattolico di te dava un'occhiata all'altro schieramento e noi giudicavamo i fascisti quelli di destra no per una serie di circostanze io sono venuto a contatto visto che la vita si vede che non è un caso con Massimo Grisanti che era tuo collega di liceo che era fascista di famiglia con cui giocava a basket nella squadra di liceo e che ci saremmo menati quando io facevo pubblicità per pubblicazioni pepate di catto comunismo no durante il liceo però siamo diventati amici e ci offriamo il caffè no andavo a Roma nel 78 arrivavo e c'era la compagnia vera quella pasoliniana trasversale no e io e il mio amico col manifesto siamo stati fermati per una trattativa per non essere menati dal fascista della compagnia il fascista a me risultò simpatico perché era più umano dell'autonomo estremista di sinistra con la divisa con gli zatteroni i zoccoloni figlio del critico cinematografico Lino Miciche guarda caso lui era di buona famiglia il fascista era popolano ed ebbe anche un processo era talmente grasso che schiacciava la sua vespa primavera in modo che toccava le ruote ma ci scortò con la moto dopo l'iniziale schermaglia e qui ci sta tutto naturalmente ci sta il discorso della diversità la trazione della diversità la la non omologazione di Pasolini che parlava di queste di queste compagnie che sembravano un espediente letterario no però non era un espediente letterario perché io l'ho verificato di persone andammo in piazza Navona al famoso ristorante Trescalini le propongo di andare al dunque così magari c'è anche qualcun altro che vuole cosa dice non ce la fa andare al dunque è che credo veramente che la diversità sia uno stimolo no nella diversità c'è anche l'amicizia con la persona con cui lentamente apri alla tua vita personale ai tuoi segreti alla tua vita intima no e per me è stato uno step sono degli step di verifica dell'amicizia vera no e rischio si rischia si rischia che l'amico si imbarazzi si vergogni se tu racconti cose intime tue che non fanno parte del suo bagaglio diciamo etico morale no vabbè ho finito qua mi è stata simpatica la sua digressione sulle sue due parti quella filosofica e quella popolare che sono molto amiche dentro di lei no o no grazie c'è una signora qua davanti che qua in prima fila domanda secca perché l'amicizia finisce perché se nel libro c'è scritto lo compro scoprire l'assassino diciamo no non c'è scritto perché finisce mi spiace se vuole no io l'amicizia è chiaro che può finire come tutte le cose perché quello che io propongo è un modo sulla scorta di alcuni filosofi che amo molto ma non ci sono solo filosofi non abbiamo fatto tempo a citare il protagonista dell'ultimo capitolo del mio libro che non è un filosofo è un poeta è un grandissimo scrittore uno dei più grandi poeti latinoamericani morto da qualche anno che si chiamava Alvaro Mutis che io cito anche perché è stato un mio amico anche se aveva 50 anni più di me ho vissuto nella sua casa a Messico ho conosciuto un modo di vivere di questi personaggi straordinari del novecento della letteratura latinoamericana che per esempio scrive una saga con protagonisti degli amici degli avventurieri marinai il suo personaggio è una specie di Macroli il gabbiere di cortomaltese latinoamericano che dove in cui io mi riconosco tantissimo anche se non ho mai navigato a bordo di un mercantile però amo molto quel personaggio e lì si racconta di amicizie che a un certo punto anche finiscono perché poi gli incidenti della vita portano per esempio ad allontanarsi troppo l'amicizia così intesa può alimentarsi anche nella distanza io credo molto che l'amicizia profonda non in questo senso siamo diversi dai greci siamo diversi da Aristotere che diceva gli amici devono stare sempre insieme in buona sostanza condividere molto soprattutto per il modo in cui si è costruita la nostra società l'amicizia così profonda non debba per forza sfiorire nella distanza si può essere anche amici profondi vedendosi una volta l'anno se però durante il periodo in cui non ci si vede l'uno e l'altro esistono vivono nella testa nella coscienza come degli interlocutori ideali se non fisicamente presenti è vero però che questa disposizione ripeto è una sfida è impegnativa questa idea di amicizia quindi anche se io non l'ho scritto perché finisce la risposta che mi sento di darle anche sulla base delle mie esperienze personali c'è molto della mia esperienza personale di vita in questo libro è che è appunto una sfida impegnativa e che altre volte molte volte altre passioni altre emozioni altre paure ci portano a non involerla più quella sfida perché è troppo impegnativa troppo costosa dal punto di vista dell'energia e quindi semplicemente scegliamo altre strade meno faticose più comode e che però hanno e lo scopriamo magari qualche anno dopo un prezzo da pagare perché si è perso magari un rapporto con qualcuno che riusciva a tirarci fuori la parte più preziosa di noi stessi io credo che finisca soprattutto per questo perché il caos e le stimoli e le paure le abitudini le mille pressioni che subiamo nella nostra vita d'altra natura spesso ci inducono a voltare le spalle all'amicizia vera esattamente come fece Atene col suo Socrate che addirittura scelse di metterlo a morte o comunque di liberarsene perché quella idea così impegnativa di amicizia aveva un costo troppo elevato era troppo faticosa meglio elevarla di torno credo che l'amicizia in fondo finisca per questo se posso dirlo prima solo telegraficamente è che a volte l'amicizia finisce quando uno dei due o forse entrambi hanno la sensazione di essere usati come mezzi no? cioè quando si avverte che c'è una dimensione più strumentale allora vuol dire che forse non era amicizia Kant parla del fatto che gli esseri umani non vanno trattati come mezzi soltanto ecco e l'amicizia comporta probabilmente questo fatto che a volte prendiamo per amicizia quanto invece si configura come un rapporto strumentale non vorrei essere solo telegraficamente Luca cita un mio amico adesso non è la platea non è interessata però io sono rimasto amico di Massimo ho fatto gli anni di liceo con lui a prescindere dalla coloritura politica ecco comunque adesso questo solo per rispondere comunque quante volte ci è capitato nella vita di avere il dubbio che un nostro amico caro in realtà stia in qualche modo usandoci per fini della più varia natura magari tra ragazzini uno diventa amico di quello solo perché è amico di quell'altra che gli piace sto facendo proprio il grado zero dell'esempio oppure più in generale nella vita adulta l'idea che comunque vi sia anche una sorta di secondo fine egoistico nell'attenzione e nel tempo che l'amico ci dedica quando si inocula questo sospetto è chiaro vuol dire che stanno prevalendo quelle altre tensioni emozioni e la disposizione dell'amicizia vera passisce non vorrei veramente però delle due forse è meglio puntare sull'amicizia piuttosto che diventare sospettosi e paranoici no? questa è la mia impression nel dubbio nel dubbio ma tu abbiamo capito che sei un indulgente l'ha detto il tuo amico lì che sei buono io sono indulgente proprio per carattere chiedevo se l'amicizia digitale può essere ritenuta un'amicizia l'amicizia digitale questo è un altro tema è un capitolo del libro che non abbiamo menzionato è ovvio che in questo momento ancor più nei mesi che ci siamo lasciati alle spalle di rapporti per alcuni mesi solamente virtuali il problema è diventato ancora più urgente io il libro l'ho scritto prima della pandemia e devo dire ho delle parole più critiche che benevole nei confronti della socialità digitale non fosse altro per il fatto che molto spesso noi e mi riferisco soprattutto i social network offriamo una parte di noi stessi che è appunto limitata selezionata filtrata il nostro profilo facebook o instagram è una selezione sostanzialmente innaturale mettiamo solo le cose che vogliamo che gli altri vedano mettiamo le foto migliori magari anche un po' ritoccate raccontiamo le esperienze che vogliamo esibire e non siamo dunque come un libro aperto di fronte al prossimo ergo spesso gli amici digitali più che amici nel senso che abbiamo dato noi a questa parola diventano piuttosto un pubblico al quale esibire una performance individuale e non invece dei veri compagni di strada questo è un grande rischio l'ossessione per la condivisione verbo diventato di dominio pubblico grazie ai social network è in realtà più una esibizione più che aprirmi mi esibisco questo è ciò che accade credo nella maggior parte dei casi soprattutto sui social network detto questo e poi ci potrebbe anche ragionare sul fatto che spesso soprattutto i più giovani comunicano secondo una modalità che è anch'essa poco spontanea il fatto che più che parlarsi ci si scriva secondo peraltro un meccanismo che è quello dello scambio dei messaggi che non è mai in piena in perfettamente in piena simultaneità perché se io mi scambio anche di continuo messaggi su whatsapp o su un altro sistema di messaggi istantanei sto comunque adottando una prassi che è diversa dal parlarsi negli occhi guardando le reazioni posso per esempio se ricevo un messaggio meditare la risposta in silenzio e scegliere alcune parole e non altre quindi viene meno la compresenza che è secondo me perché sappiamo che soprattutto i ragazzi sotto una certa fascia di età comunicano assai più in questo modo che non per esempio col vecchio strumento della telefonata che appartiene semmai alla mia e alle precedenti generazioni il venir meno del parlare è a suo modo un'altra conseguenza della socialità digitale ultima riflessione che io provo a fare nel libro la scrittura il prevalere della socialità scritta attraverso la messaggistica istantanea ci sono immagini ma ci sono anche molte parole scritte tende spesso ad adottare degli standard linguistici abbreviazioni e formule che sono un po' le stesse per tutti e a mio modo di vedere anche in questo c'è un rischio di diventare tutti un po' uguali cioè di omogeneizzarsi nel modo in cui ci si rapporta con gli amici con le fidanzate con i compagni di scuola perché si adottano degli stile linguistici che per iscritto sono più uniformanti mentre invece il dialogo l'incontro l'oralità e quindi la presenza fisica mantengono un maggior grado di sincerità e di spontaneità di apertura al prossimo detto tutto questo quindi io riservo delle pagine abbastanza critiche nei confronti dell'amicizia digitale è vero anche che poi noi veniamo è bello cambiare idea veniamo anche da dei mesi in cui se non c'erano le videochiamate zoom e i social network saremmo rimasti disperatamente soli quindi ancora una volta la realtà ci stupisce ricordandoci che comunque questi strumenti digitali sono soprattutto degli strumenti e sono i grandi filosofi del passato in particolare Aristotele che ci ricorda come uno strumento abbia in sé la potenza degli opposti cioè possa essere usato bene o male ci sono state delle fasi le più terribili della pandemia nel quale è stato fatto un buon uso della socialità digitale che è stata veramente al servizio anche dell'amicizia più vera e più profonda se c'è ancora qualcuno altrimenti ah sì prego salve volevo chiedere in che rapporto sta l'amicizia con la passione amorosa la passione amorosa questa è una domanda che arriva sempre anche perché ne parlo nel libro facendomi scudo con uno dei più grandi pensatori della storia europea che è Michel de Montaigne e io uso le sue parole e ci rifletto anche io lui Montaigne forse lo saprete ha scritto un saggio dell'amitié che racconta della sua formidabile amicizia con il giovane magistrato e intellettuale siamo nella Francia della seconda metà del Cinquecento etienne de la Boétie un'amicizia tra questi due intellettuali e funzionali del regno persone formidabili che poi morto l'amico Montaigne racconta nel ventottesimo dei suoi saggi che è forse il testo più bello che è stato scritto sull'amicizia nella storia perlomeno della filosofia del pensiero europeo e in quelle pagine lui fa anche un bel confronto dopo aver detto cose formidabili su questo rapporto d'amicizia che è così forte da unire gli amici in una sorta di mélange che quasi ne fa perdere le differenze anche se non è vero perché gli amici poi coltivano ciascuno la propria unicità eccetera eccetera poi fa un confronto con la passione amorosa e dice altra cosa è la pulsione che mi lega nel suo caso alle donne alla moglie che lui non rifiuta lui le ha coltivate entrambe nella sua vita Montaigne questa grande amicizia con Etienne de la Boétie che poi muore giovanissimo a 33 anni e poi l'amore per la moglie una vita familiare felice quella di Montaigne peraltro dice però questo ed è la cosa che mi ha colpito di più lui in effetti stabilisce una gerarchia e mette l'amicizia più in alto della pulsione amorosa per le ragioni se vogliamo che abbiamo anche detto prima come se fosse l'unica dimensione che consente di tirar fuori tutto noi stessi tutto quello che abbiamo io non so se sono d'accordo nel porre questa gerarchia quello che mi colpisce è che lui usi un'immagine bellissima l'amicizia lui dice è un fuoco mite e calmo mentre la pulsione amorosa ha la fiamma viva ha un fuoco che divampa che certo fa cuocere più in fretta e però rischia anche A di bruciare B finisce presto e C non consente di coltivare emergere i sapori gli ingredienti di ciò che si sta cuocendo perché il fuoco calmo come è noto più mite è quello che consente la cultura più lunga e anche di esprimere al meglio i sapori uscendo dalla metafora culinaria che in realtà è più mia che di Montaigne Montaigne si ferma al fuoco io credo che ci sia del vero in questo cioè nel senso che senza nessun tipo di gerarchie non è che l'amicizia sia meglio della pulsione amorosa tuttavia e forse tra l'altro può persino questa è la grande domanda a cui non so rispondere può persino coesistere anche tra la coppia tra l'uomo e la donna o l'uomo e l'uomo la donna e la donna che si amano pure di pulsione erotica in senso stretto non credo si escludano a vicenda però l'amicizia così intesa che non ha regole questo è fondamentale quindi non avrebbe senso tracciare uno steccato e dire qui c'è l'amicizia poi inizia un'altra roba è talmente grande indefinibile che include in sé anche potenzialmente l'esperienza erotica in senso stretto sia interessantissima e efficace l'immagine di quel fuoco calmo che dunque continua e non sospende mai la cottura dove per cottura si intende il far venire fuori quello che siamo veramente però ecco io ritengo e ci credo con forza che oltre le parole di Montaigne sia in realtà un errore contrapporre l'amicizia e la passione amorosa proprio perché l'amicizia come provo a definirla io in questo libro è un'esperienza di cui non si può dare un confine e un prontuario con le regole che ci dicano cosa è amicizia e cosa non lo è ciascuno è chiamato anche a partire dal confronto con i testi che io cito a confrontarsi a partire dalla sua vita con questa idea del rapporto con gli altri e poi a declinarla dentro questa amicizia ci potrà stare il rapporto amoroso sì forse ci può stare anche il rapporto familiare forse un'amicizia di questo genere può nascere anche tra due fratelli perché no non poniamo steccati non tracciamo barriere io ci credo fortemente in queste quindi neppure direi l'ultima cosa che vi dico istituiamo delle gerarchie tra i sentimenti ma vediamoli come tutti convergenti verso un bisogno profondo che è quello di far venire fuori ciò che abbiamo dentro insieme bene ringraziamo Pietro Nessoldà e grazie a tutti